L'ingresso nel mercato cinese richiede una preparazione adeguata. Alle imprese del nostro territorio si rivolge all'iniziativa varata da China House, progetto con seda Poggi Ridenti, pensato da Fondazione Italia Cina, Semea Webtech, OSM 1816 e Studio Scardaccione Pelandini. Ha infatti preso il via il China Executive Training Program 2022 di China House, realizzato in collaborazione con Banca Popolare di Sondrio per favorire l'internazionalizzazione verso est delle aziende di Valtineva e Chiavenna, grazie a un supporto a 360 gradi con focus su digitale, legale, innovazione e networking. Grazie alle lezioni in programma da giugno a ottobre, i partecipanti potranno acquisire le competenze, gli strumenti culturali e le nozioni legali di marketing per stabilire con successo la propria realtà impenitoriale in Cina, che oggi è la seconda economia mondiale. Il China Executive Training Program, patrocinato dalla provincia di Sondrio, si svolgerà presso K-Hub, la sede di China House in Valtellina. Il corso sarà fruibile anche online su Google Meet.